Guardi com'è bello quell'uomo col suo cane. Guardi, hanno perfino la stessa andatura. È vero. Hai mai sentito parlare dello scultore Giacometti? Sì, lo trovo molto bravo. Una volta ha detto una cosa straordinaria. Ha detto, in un incendio tra un Rembrandt e un gatto, io salverei il gatto. Sì, e ha concluso, e dopo lo lascerei subito a andare via. Davvero? Sì, è proprio questo che straordinario, no? Sì, sì, è molto bello. Significa, tra l'arte e la vita, io scelgo la vita. Come hai ragione. Eh sì. Ma perché mi ha fatto questa domanda? Su Giacometti? Sì. A proposito di quell'uomo lei e il suo cane. Grazie a tutti! Grazie a tutti.